Medici carenti, poco personale nei reparti di cardiologia, pronto soccorso e ortopedia del Cardarelli, taglio dei posti letto, quote pubblico privato, la sanità pubblica molisana e allo sfascio del Movimento 5 Stelle. Dopo le azioni in consiglio regionale alla Camera, gli incontri, dibattiti e le marce di Iserni e Campobasso, si è rivolto al prefetto del capoluogo Francesco Paolo di Menna per sottoporgli le difficoltà del comparto e chiedere il suo intervento per scongiurare l'ulteriore riduzione dell'offerta sanitaria. Il portavoce in consiglio regionale Antonio Federico, il portavoce in consiglio comunale a Campobasso Luca Praetano ed Andrea Greco del Metap di Agnone hanno incontrato il vertice del Palazzo di Governo sottoponendogli preoccupazioni per i ritardi della riorganizzazione sanitaria, per il blocco del turnover e per il nuovo orario di lavoro europeo nel settore. Tutte criticità che minano la possibilità di garantire con continuità la presenza di medici nei vari turni e nei vari reparti. Le nostre preoccupazioni, ha spiegato Antonio Federico, vanno al di là della contrapposizione politica, riguardano la salute pubblica e il ruolo istituzionale che ricopriamo. Di mezzo c'è la possibilità di un'ulteriore riduzione dell'offerta sanitaria. In questo senso il nostro plauso va al personale medico che ogni giorno e ogni notte si fa in quattro per coprire tutti i turni di lavoro. Il prefetto è rimasto colpito nel conoscere i dettagli del caos sanitario in cui viviamo, ha continuato Federico. Nei prossimi giorni incontrerà le parti sociali ma soprattutto si impegnerà per evitare il rischio che i molisani debbano andare fuori regione anche per le emergenze e non vedersi garantiti i servizi essenziali.